Salve a tutti ragazzi, bentornati, dopo tempo ritorniamo su YouTube, era tantissimo tempo ormai dal video del concetto dei precari, quindi sono passatamente l'estate, troppo, troppo. Quindi al corso di ritornare come? Oggi ci occuperemo di cosa? Allora faremo un video diverso dal nostro genere di YouTube, ci occuperemo di fare uno smontaggio e ripulitura completa di un motorino storico, che? Che è? Che? Più che un motorino era considerato una bicicletta a motore. Perché ha questa caratteristica che se te, disgraziatamente, ti ritrovi a piedi, molto raramente, puoi benissimo pedalare. Esatto, sto parlando non del sì, non del boxer, non del bravo, ma del... del... ciao! Grazie a tutti! 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 Ho smontato il motore, Yuri è tutto il tempo che sta a pulire la marmitta e c'era molta lucide, adesso io stavo riculendo il motore, col trapano, e... niente... si spera poi... di concludere con un buon lavoro... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!